Un incendio devastante ha colpito un centro commerciale di 14 piani nella città cinese di Zhigong, provocando la morte di almeno 16 persone. L'incendio è scoppiato nel tardo pomeriggio poco dopo le 18 e ha rapidamente avvolto l'intero edificio. I vigili del fuoco e i soccorritori sono giunti prontamente sul posto e sono riusciti a mettere in salvo 75 persone. Al momento le cause del rogo sono sconosciute e non è chiaro quante persone si trovassero all'interno al momento dell'incendio. L'edificio ospita un grande magazzino, uffici, ristoranti e un cinema. I video diffusi sui social media mostrano denso fumo nero fuoriuscire dalle finestre di piani inferiori e avvolgere la struttura. I vigili del fuoco hanno utilizzato getti d'acqua per domare le fiamme e continuano le operazioni di soccorso.